Terremoto, 400 interventi dei vigili del fuoco tra Ancona e Pesaro. La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, richieste di sopralluoghi otto volte in più ad Ancona rispetto a Pesaro. Danneggiata anche la primavera di Monet alla Pinacoteca Dorica. 36 e in aumento gli spollati ad Ancona, l'assessore Foresi si cercano soluzioni alternative al palazzetto anche con l'aiuto di associazioni. A San Benedetto, uomo di 33 anni accoltellato alla gola, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette, il suo aggressore è in fuga ricercato dai carabinieri. Verso le comunali ad Ancona, toni accesi alle primaglie del centro-sinistra tra i due candidati, Carlo Pesaresi e Ida Simonella. Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire sul canale 12 del Digitale Terrestre ma anche in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app. Ma iniziamo subito con le notizie e apriamo ancora inevitabilmente il nostro telegiornale con il terremoto. Prosegue lo sciame sismico nella nostra regione sempre con epicentro in mare a largo della costa pesarese di quella anconetana. Intanto prosegue anche l'attività di verifica dei vigili del fuoco e il conteggio dei danni. E a proposito di danni, aveva detto ieri il presidente della regione Francesco Acquaroli che sono ingenti, quelli ascrivibili al patrimonio culturale. Ed è arrivata oggi la notizia di un lieve danno alla primavera di Monet. La scossa di terremoto che ha colpito Ancona infatti ha provocato la caduta dell'opera di Monet esposta presso la Pinacoteca Podesti per la mostra Cose dall'altro mondo, da Monet a Warhol. Si tratta del solo danno subito dalla mostra e l'opera risulta leggermente danneggiata. L'organizzatore però ha già fatto sapere che ha individuato uno tra i massimi restauratori presenti e che l'opera gli è già stata affidata per essere ripristinata. Non appena terminato l'intervento il dipinto tornerà in mostra. Dicevamo degli interventi, delle verifiche svolte tra Ancona e Pesaro sono oltre 400. Oggi sono stati dichiarati inagibili vari edifici, due tra l'altro fanno parte di alcuni padiglioni dell'ospedale di Fano dove è stato interdetto l'accesso. Poi una palazzina privata ad Ancona invia circonvallazione. E a proposito delle richieste di sopralluogo oggi ha parlato la sindaca Valeria Mancinelli che ha detto ad Ancona le richieste di sopralluogo sono otto volte di più rispetto a Pesaro. Ancona è stata fortemente danneggiata. Sentiamo. Il terremoto ad Ancona si è fatto sentire di più. Ne è convinta la sindaca Valeria Mancinelli che riporta un dato significativo, richieste di verifiche otto volte maggiori ad Ancona rispetto a Pesaro. Emerge ormai passando le ore e che in realtà probabilmente il fenomeno sismico ha colpito più duramente la città di Ancona rispetto anche a territori, aria, comuni geograficamente più vicini, anche se non di molto, all'epicentro. Dai primi dati che così informalmente ancora si sono arrivati dai vigili del fuoco, il numero delle richieste di sopralluogo sugli edifici privati in Ancona è di circa otto volte superiore a quello registrato nel comune di Pesaro, per esempio, nella città di Pesaro. Ovviamente poi i sopralluoghi potranno dare esiti diversi, però diciamo che quando uno fa una richiesta di sopralluogo è perché evidentemente un sintomo più o meno grave c'è e questa forte disparità di numero di richieste di sopralluoghi è un primo dato indicativo, indicatore del fatto che probabilmente qua ha colpito ancora più forte. Al momento sono stati effettuati da parte dei tecnici comunali dorici oltre 200 sopralluoghi per scuole, impianti sportivi, sedi comunali, aggregative e sociali, viadotti, musei e cimiteri. Ma è impossibile stare dietro anche alle innumerevoli richieste che arrivano dai privati, richieste per le quali, spiega la sindaca, serviranno squadre di verificatori esterni. I vigili del fuoco non ce la fanno a rispondere in tempi rapidi a queste richieste, quindi probabilmente la sensazione è che per le dinamiche tipiche del sisma, per la direzione, per il tipo di sottosuolo, gli effetti siano stati più forti, molto più forti nella città di Ancona che in altri territori. E dunque con le verifiche vengono fuori purtroppo sempre più edifici inagibili e sono in aumento gli sfollati ad Ancona, ma si cercano soluzioni alternative al palazzetto anche con l'aiuto di associazioni. Giulia Boschi. Con i servizi sociali stiamo collaborando, lavorando per trovare delle strutture dove possono essere poi ospitati in maniera adeguata e forse se riusciamo entro oggi e domani a chiudere con un'associazione sicuramente faremo un bel servizio. Ultime notti in Brandina per le dieci persone che anche stanotte hanno dormito al Palarossini dopo aver dovuto lasciare le proprie abitazioni perché dichiarate inagibili a seguito della scossa di terremoto dello scorso mercoledì mattina. In totale gli sfollati ad Ancona sono 36 gli ultimi a lasciare la propria abitazione, 6 famiglie in via Rossini. Tra le persone evacuate però la maggior parte è ospitata da amici e parenti. In attesa dunque di trovare una nuova sistemazione a lungo termine, il Comune sta lavorando per spostare il punto di prima accoglienza con le persone rimaste al pala indoor. Stiamo facendo del tutto per trasferire dal pala indoor perché c'è una logistica più comoda, sarebbe molto più comode vicino al piano, non devono prendere l'autobus perché arriva fino a Piazza Gobassi, Piazza Darmi, poi c'è la linea che arriva fino alla Montagnola. Quindi questa è un po' l'idea di fare, non so se ce la facciamo per questa sera, però questo è il futuro. Intanto da oggi hanno riaperto tutti gli impianti sportivi comunali e la quasi totalità delle scuole anconetane, a fare eccezione 24 istituti che resteranno chiusi fino a sabato 12 per portare a termine piccoli interventi di messa in sicurezza e ulteriori verifiche. Stiamo lavorando, le 24 scuole ci stiamo lavorando per cercare di aprirle il più possibile, il numero più possibile lunedì. Poi domani faremo il punto e decideremo quante ne riapriremo lunedì. Sulle medie un'ultima cosa, le donatelle, ci sono i banchi a rotelle, i genitori sulla mente e dicono che con quei banchi i bimbi non possono ripararsi se c'è un'altra scossa. Guarda, ho parlato proprio con la dirigente stamattina, con cui ho contatti continui perché c'è tanti plessi, questa cosa non esiste, non è un problema, mi sembra che si può superare questo problema. Le conseguenze del sisma, fotografate dai numeri degli accessi in pronto soccorso, il punto con il referente sanitario regionale e coordinatore del Gores, Maglio Caroli. La pandemia, tutt'altro che terminata, prima l'alluvione di un paio di mesi fa e ora anche il sisma del 9 novembre scorso a colpire duro nelle marche. Seppure l'ultima calamità non abbia provocato vittime, certamente ha gettato nello sconforto le comunità già messe a dura prova da continue emergenze nelle emergenze. Non ha provocato neppure feriti, inseguito a crolli o conseguenze dirette del terremoto, ma purtroppo non sono mancati gli accessi nei pronto soccorso e negli ospedali della regione per malori o traumi, nel momento in cui le persone si sono messe in fuga quando sorprese dal movimento tellurico. Il punto con il referente sanitario regionale e coordinatore del Gores, Maglio Caroli. Allora, per quanto riguarda la situazione a livello regionale, dopo il sisma ci sono stati gli accessi nei pronto soccorsi della regione Marche dovuti fondamentalmente a traumi minori, gente che scappava per la paura e si sono recati prevalentemente nel pronto soccorso di Pesaro dove sono arrivati 20 pazienti, 10 nel pronto soccorso di Fano, 18 in quello di Ancona, 3 a Senigallia e 1 al pronto soccorso di Iesi. Tutte patologie minori, traumi minori e alcuni attacchi di panico o malori. Ed ora dopo questa lunga ma doverosa pagina sul terremoto ci spostiamo a San Benedetto per la cronaca. Un uomo di 33 anni di nazionalità macedone è stato accoltellato e ferito alla gola oggi pomeriggio in viale dello sport ed è ricoverato in gravissime condizioni ad Ancona. Sull'accaduto stanno cercando di far luce i carabinieri del norme della compagnia di San Benedetto che sono sulle tracce dell'aggressore fuggito appunto dalla zona. I sanitari del 118 intervenuti hanno subito ravvisato la gravità delle condizioni della vittima e hanno fatto intervenire l'elisoccorso che lo ha portato, dicevamo, all'ospedale Torrette. Ed ora restiamo sulla cronaca e ci spostiamo ad Ancona per un incendio che è avvenuto oggi intorno alle 12. Un uomo ha salvato l'anziana madre e due gatti ma è rimasto intossicato. Sentiamo. Attimi di terrore questa mattina ad Ancona nella zona del piano sono da poco passate le 12 quando in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di via Maiolati scoppia un incendio. All'interno dell'abitazione in quel momento si trovano una signora anziana insieme al figlio 48enne e alla moglie di lui. Accortisi del rogo scaturito forse da un cortocircuito di un elettrodomestico ma le cause sono ancora in fase di accertamento, l'uomo mette immediatamente in salvo i familiari, in particolare l'anziana madre accompagnata al sicuro nella casa di un vicino. Poi torna nell'appartamento per salvare i suoi due gatti facendosi largo tra le fiamme e tentando di spegnerle con dell'acqua. Alla fine riesce nell'intento portando in salvo gli animali ma rimane intossicato dal fumo. Intanto allertati dai vicini arrivano sul posto i vigili del fuoco di Ancona. Con un autobotte riescono non senza difficoltà a domare le fiamme che intanto avevano avvolto i mobili della casa evitando così la propagazione e arresto dell'edificio. Con i pompieri anche la croce gialla di Ancona i sanitari dopo aver trattato l'uomo lo trasportano all'ospedale Torrette in codice giallo. Intanto veniva evacuato dai pompieri l'intero stabile. Il fumo aveva completamente invaso la tromba delle scale e arrivavano sul posto anche i poliziotti della questura di Ancona per accertamenti. E incendio questa mattina anche al tribunale di Ancona o meglio un principio di incendio che però ha fatto scattare l'allarme e spaventare tutti. Tutto il personale è stato invitato ovviamente a lasciare il palazzo di giustizia e sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza l'edificio facendo rientrare di conseguenza il personale e gli utenti. Ricordiamo che il tribunale sta funzionando in forma ridotta dopo il sisma. Ed ora voltiamo pagina e parliamo di politica. Ad Ancona si va verso le elezioni comunali ma prima per il centrosinistra almeno c'è il passaggio dalle primarie. Ieri un primo incontro, confronto molto acceso tra i due candidati Carlo Pesaresi e Ida Simonella. Sentiamo. E soprattutto uniti e compatti dopo le primarie. Si è concluso con la classica stretta di mano ma è stato un dibattito acceso, quello andato in onda in diretta su ETV Marche, andato in scena al ridotto del Teatro delle Muse di Ancona tra i candidati del centrosinistra che si misureranno con le primarie di coalizione del prossimo 27 novembre da cui emergerà tra Ida Simonella e Carlo Pesaresi il candidato sindaco per le comunali di Ancona previste tra fine maggio e inizio giugno 2023. Due ore di dibattito, temi dai più politici a quelli che riguardano la sicurezza, il turismo, le manutenzioni, la gestione delle emergenze, il sociale ma è soprattutto il nodo del porto a scaldare gli animi dei due candidati. Domani mattina se tu sposti un traghetto dalla 8 alla 19 dove scarica i tir il traghetto? Come ci arrivano le macchine? Dove si fa la dogana? Come puoi dire che domani mattina le fai? Le prescrizioni che il ministero ha dato all'autorità portuale per lo spostamento dei traghetti l'hai messo in atto? No. Allora, lo spostamento dei traghetti è un obiettivo del Consiglio Comunale. È una cosa che abbiamo scritto e si fa, ma si fa per farlo. Bisogna che poi i traghetti quando vanno là, in qualche maniera il tir non finisce in acqua, ok? Ci metti il pontone mobile, ci metti il dente fisso, lo decidi te, non lo decidi tu, lo decide il piano del porto. Carlo, sei per mettere il pontone immediatamente, cioè dare... No, io dico che non si può sempre... No, Carlo, perché su questo... Ma io faccio il sindaco, non faccio il dirigente dell'autorità portuale, ma è possibile che tu chiedi a me se devo mettere il pontone mobile? Ma io faccio il sindaco, io non sono un tecnico del porto, io capisco che tu sei molto preparata sul porto, ma solo su quello. Stai eludendo il problema. La cosa che tu vai dicendo è quella che bisogna aspettare la realizzazione della banchina 27 per decidere di spostare i traghetti. E questo fatto di rimandare per anni questa cosa significa non dare risposte anche alla città. Lo spostamento dei traghetti, siccome quella cosa è fattibile, è fattibile anche con un pontone, e lo sai bene. Ed ora torniamo a parlare dell'emergenza, ma per fortuna solo in forma simulata, ad Arcevia un workshop di formazione promosso dall'Ares per parlare appunto di prevenzione e gestione dell'emergenza. Sentiamo. La prevenzione, quando si pensa alle calamità naturali, non è soltanto negli interventi di efficientamento e messa in sicurezza di abitazioni private, edifici e impianti pubblici per giocare d'anticipo sulla furia della natura. Ma è anche la preparazione di chi, nel dramma, è chiamato a reagire in tempo zero e a dare supporto immediato alla popolazione colpita. È una simulazione, certo, e serve a prepararsi al peggio. Quella promossa dall'Ares è in scena fino a domani ad Arcevia in presenza di una catastrofe che non si discosta troppo dall'attuale realtà. Mettiamo che la cittadina dell'entroterra senigallese sia stata colpita dall'alluvione, le case vanno sgomberate, le strade distrutte e persino l'ospedale di comunità, fingendosi a un nosocomio a tutti gli effetti, è inagibile e il bilancio è ulteriormente aggravato da vittime, tante e feriti numerosi. Da trattare subito sul posto e grazie alla supporto dell'Associazione Regionale per le Emergenze Sanitarie e Sociali, i cui professionisti da tutta Italia raggiungono il comune per lavorare fianco a fianco con il Gores, la protezione civile, i vigili del fuoco, le istituzioni locali e le forze dell'ordine. E nel workshop si apprende a far tutto, dall'allestimento di un ospedale da campo ai tavoli di coordinamento per organizzare la macchina del soccorso. Come non bastasse, poi col passare delle ore le conseguenze dell'alluvione si aggravano perché spuntano dei casi di patologie infettive legate alla contaminazione delle acque dopo la tragedia. Come gestire il tutto? Intanto partendo dalla prendere nozioni decisive per la gestione dell'emergenza. Per noi questo evento che era stato ideato ancora prima dell'alluvione ha un significato legato alla formazione dei nostri volontari. Da anni ci occupiamo di medicina delle catastrofi e nel momento in cui si è verificata l'alluvione lo scenario non l'abbiamo nemmeno dovuto studiare più di tanto perché avevamo la realtà con cui confrontarci. Quindi questa volta è particolarmente significativo perché effettivamente veniamo da uno scenario appena accaduto. E rispetto ad altri eventi formativi abbiamo infatti incontrato una popolazione e le autorità locali che venendo da un'esperienza appena trascorsa si sono rese estremamente disponibili nei nostri confronti tanto che stamattina stanno lavorando insieme a noi all'esercitazione e questo per noi è un obiettivo raggiunto straordinario. Sindaco, le chiedo l'importanza di questa esercitazione perché purtroppo ci siamo trovati a fronteggiare un'emergenza e il vostro paese è uno dei tanti che insomma l'ha subita recentemente. Quindi l'importanza di questa simulazione che coinvolge tanti volontari, le forze dell'ordine, le istituzioni. L'importanza è notevole perché bisogna formarsi, bisogna prevenire e per prevenire bisogna avere persone che si possono occupare delle varie emergenze, delle varie situazioni con una formazione adeguata. Quindi benvenga questo tipo di corsi, sono orgoglioso di poter ospitare questo corso qui in Arcevia e ahimè è capitato poi in un periodo dove l'emergenza c'è stata veramente. Però quando mi è stato proposto in tempi non sospetti a luglio scorso di realizzare questo corso qui in Arcevia, sono stato molto contento e quindi abbiamo organizzato e cercato di agevolare questo tipo di evento. Incrociare domanda e offerta di lavoro, ora c'è un nuovo strumento, il portale Job Talent. Vediamo di cosa si tratta. Favorire l'incrocio domanda e offerta di lavoro incentivando l'incontro tra imprese e lavoratori ecco il portale Job Talent voluto da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino e sostenuto dalla Camera di Commercio delle Marche per rispondere alle esigenze delle imprese che fanno fatica a trovare figure professionali. Nell'incontro organizzato nella sede di Ancona sono stati coinvolti 10 istituti scolastici, la provincia di Ancona e i sindaci di 16 comuni più vicini alle istanze del territorio insieme a Lanci per sottoscrivere un protocollo d'intesa per la promozione e la conoscenza del sito. In Italia il 45,5% delle imprese fatica a trovare risorse umane qualificate, nelle Marche il 46,8% non trova personale. Da qui l'obiettivo di Confartigianato è di creare uno strumento che non ha la presunzione di risolvere il problema ma che si pone come obiettivo quello di creare un network di istituzioni, imprese e persone per facilitare l'incrocio tra domande e offerta. Oggi vediamo che tanti giovani non riescono a trovare lavoro e ci sono tante imprese che invece vanno cercando i ragazzi per poterli mettere nel proprio sistema lavorativo. E allora questa domanda e offerta può facilitare magari questa unione di interessi fra chi ha ricerca personale e quei ragazzi che vogliono iniziare a lavorare magari in settori che loro più gradiscono. Ma come funziona il sito internet? L'impresa compilando un semplice form contenente dati anagrafici e dati di contatto può indicare il profilo professionale richiesto. Verrà contattata da un nostro referente territoriale in grado anche di dare informazioni sulla tipologia contrattuale più confacente al profilo professionale richiesto ad eventuali agevolazioni contributive disponibili e il referente territoriale potrà anche raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere l'annuncio nel modo più opportuno possibile e che sia più appetibile per il lavoratore che lo leggerà. Contestualmente verrà effettuata una ricerca nella banca dati lavoratori per verificare se ci sono già candidati disponibili. Verranno visionati tutti i curricula che perverranno per lo specifico annuncio e verranno inviati alle aziende solo quelli effettivamente corrispondenti ai requisiti richiesti. La prima organizzazione con fartigianato ad avviare il portale era stata quella della Lombardia presente il segretario Carlo Piccinato. In via sperimentale è andata abbastanza bene, diffusa su tutto il territorio della regione e poi ci siamo incontrati con fartigianato nazionale, in particolare con fartigianato Ancona ha detto che avrebbe voluto implementare ancora di più, prendersi carico anche con degli investimenti, noi l'abbiamo fatto a livello regionale, quindi una struttura estremamente piccola, mentre Ancona è un'organizzazione di territorio molto forte, ha detto lo prendo in mano io, lo organizzo, ci investo, lo modifico, c'è una piattaforma che deve essere seguita e poi lo metto a disposizione di tutto il sistema e noi volentieri abbiamo detto ci stiamo. Ed era questo il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi auguro una buona serata con i nostri programmi.